Come è la presenza della criminalità organizzata? Abbiamo inteso questa manifestazione per fare in modo che vengano riaccesi i riflettori su un tema importante, su questo fenomeno carsico che nonostante tutto continua ad andare avanti giorno per giorno, nel nostro territorio a livello di Interland milanese ma naturalmente a livello nazionale. Da qui un messaggio forte, un messaggio anche di richiesta di unità a livello di amministrazioni locali e nazionali, naturalmente sotto la guida del Lanci, un messaggio anche al governo e per continuare questa battaglia per la legalità contro la presenza della criminalità organizzata in territori anche così fertili come il nostro, perché Trezzano sul Naviglio è una realtà importante dal punto di vista produttiva e vogliamo naturalmente che la nostra comunità si liberi da queste presenze. Abbiamo ideato questa campagna contro l'Andrangheta perché l'Andrangheta ha un controllo territoriale, quindi la migliore risposta sono i cartelli, segnalare un pericolo, una presenza, in modo che Roma, la politica che vive del silenzio in qualche modo, che assiste al silenzio della Andrangheta impassibile reagisca e prenda provvedimenti perché il silenzio, l'omertà sono i due ingredienti che più di tutti aiutano la mafia. Quello di oggi è un primo segnale, credo forte, per sensibilizzare i comuni su un tema che non può più essere nascosto, che è quello della presenza della criminalità organizzata all'interno dei nostri comuni. Per troppo tempo abbiamo fatto finta, non tanto noi come sindaci, ma magari una certa opinione pubblica, ha fatto finta di dimenticare che anche qui l'Andrangheta, la mafia, la criminalità organizzata era presente e ci vuole anche il segno di sindaci coraggiosi, come quello di Trezzano sul Naviglio, come Fabio Bottero, per voler non solo testimoniare che questi sono territori che devono essere liberati dalla criminalità organizzata, ma soprattutto che qui la criminalità organizzata non ha cittadinanza. Ecco, io credo che il segnale forte, anche simbolico, ma che è molto concreto è esattamente questo. State lontano da qui perché voi qui non solo non siete graditi, ma non avete nessun diritto per starci. E credo che questo debba essere, come dire, una iniziativa che parte oggi qui da Trezzano, fa parte di quella iniziativa più ampia, 100 comuni contro le mafie che Anci ha voluto organizzare, alla quale oltretutto Anci Lombardia aderisce e mi auguro che siano tanti i sindaci che vogliano raccogliere questo segnale.